Cari amici, buonasera, ci incontriamo per le opere scelte da Lucia e stasera vi presento dal catalogo di Umberto Baldini del 1988 Sandro Botticelli e il suo famoso dipinto La Madonna del Magnificat. Non è la primavera, non è la nascita di Venere, stasera vi presento un tondo che veniva realizzato solitamente per un'ubicazione privata, committenza privata e infatti per molto tempo si è pensato anche per lo stretto rapporto che univa Botticelli con la famiglia Medici che questo fosse un ritratto di famiglia Medici dove la Madonna potesse essere Lucrezia Tornabuoni, il figlio Lorenzo e Giuliano e poi le figlie. In realtà il quadro che è stato acquistato dalla Galleria di Uffizi nel 1754 da un collezionista privato Magherini non sappiamo molto della storia del dipinto, quello che si può vedere è che è un dipinto che si colloca nel periodo aureo di Botticelli vicino agli anni della primavera e della Venere, è 1483. Il dipinto rappresenta i due arcangeli nel momento in cui poggiano sulla testa la corona alla Vergine e il titolo dell'opera Madonna del Magnificat viene dalle parole, dal versetto tratto dal Vangelo di Luca Magnificat anima mea dominum che significa la mia anima magnifica il Signore parole pronunciate dalla Vergine quando si trova a visitare Santa Elisabetta. Il quadro rappresenta proprio questo momento, il momento in cui l'unione stretta tra la figura appunto vedete il bambino, questo dettaglio molto molto bello della mano del bambino che guida la mano della Vergine con questo dettaglio dell'inchiostro e della penna e il Magnificat è proprio l'incipit di questa pagina scritta. L'altra mano invece insieme, come vedete, unisce la melagrana e sempre la mano della Vergine e del bambino. La grana che è il simbolo per il chicco della goccia del sangue ma anche con la buccia della chiesa e quindi l'unione di tanti chicchi, dei tanti elementi e appunto l'idea proprio del sacrificio e anche della predestinazione del bambino. André Chastel descrivendo quest'opera dice che Botticelli ha raggiunto una grande novità in questa tavola perché ha unito un elemento di spiritualità cristiana, un soggetto, un'iconografia di spiritualità cristiana con un nuovo naturalismo classico. Vorrei infatti sottolineare quanto l'eleganza e la bellezza di Botticelli nella rappresentazione della naturalezza siano dovuti ai suoi grandi studi, alla conoscenza dell'antico. Botticelli è uomo di rinascimento, è un uomo che si forma in una delle famiglie più ricche, più colte, con grande tradizione di umanesimo a Firenze. E così questo bellissimo tondo, questo bellissimo quadro che si conserva alle Gallerie degli Uffizi è il dipinto con il quale oggi vi voglio salutare ricordando che appunto l'idea di questa intimità e di questa unione è sicuramente anche dovuta e anche questa bellezza e questa raffinatezza del volto della Vergine è anche dovuta al rapporto tra Botticelli e Filippo Lippi, la famosa Lippina, dove l'eleganza e questa un po' così melanconia della Vergine ricorda quella del Maestro. Con oggi vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani con l'opera scelta da Lucia. Ciao!